buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv siamo pronti ad aprire i giornali come sempre e a evidenziare le notizie del giorno leggendo il corriere adriatico e il resto del carlino sulle pagine locali cominciamo come sempre dal manaco del giorno e vediamo che si festeggia oggi oggi è la festa lo vediamo qua nella grafica di sant'agostino di canterbury ma da non confondere con agostino il grande agostino dottore della chiesa nato a tagaste in africa poi venuto a milano discepolo di sant'ambrogio vescovo di ippona questo agostino di canterbury visse nel sesto secolo ed evangelizzò in modo particolare gran parte dell'inghilterra allora conquistata dai sassoni quindi fu un grande promotore della fede cattolica luttando anche contro le eresie che in quel momento cominciavano già a minare le fondamenta della religione canonica questo per quanto riguarda il santo vediamo ora le previsioni del tempo tempo stabile solleggiato con poche nubi di passaggio nelle marche temperature massime fino a 25 gradi in pianura venti deboli moderati e sulle coste da nord nord ovest nell'interno da nord e le temperature uscideranno dai 16 ai 23 gradi e il mare è leggermente mosso dunque vedremo un weekend solleggiato insomma assaporiamo i primi tepori dell'estate anche se siamo ancora in primavera comunque le concessioni balneari sono pronti a offrire la prima tintarella con tutti i servizi che hanno i nostri bagnini i nostri concessionari apriamo oggi il resto delle carlino e vediamo come l'apertura è dedicata alla cura e la manutenzione di alcune aree che in questo momento sono incolte in modo particolare il giornale accentua la sua attenzione sulla pista ciclabile tra fano e fosso sei ore ebbene quando ci si avvicina alla città provenendo da pesaro si vede uno spettacolo veramente non molto bello eccolo qua nelle fotografie vediamo l'erba alta erba alta buche e muri imbrattati afferma il titolo è questo il benvenuto che fanno da ciclisti chi percorre in bicicletta la pista da pesaro giunto in città si ritrova in una terra di nessuno insorge anche barbara marcolini che è la presidente della conf commercio di fano l'arzilla è per importanza la seconda spiaggia turistica dopo il lido merita di più ha dichiarato la rappresentante di categoria erba alta canneti asfalto ratoppato muri sporchi di scritte graffiti questo appunto è l'aspetto di questa zona che dovrebbe essere importante dal punto di vista estetico perché il biglietto da visita per coloro che giungono da pesaro della fano turistica insomma occorre più attenzione e sotto il cavalcavia quello che attraversa la ferrovia verso la zilla sotto il cavalcavia la pendenza della discesa e la ghiaia hanno fatto cadere tante tante persone sulla pendenza non ci si può fare niente perché quella di Tano è una delle pendenze strutturali del nostro territorio ma per quanto riguarda la ghiaia forse qualcosa si può fare a fondo pagina abbiamo una nuova iniziativa che è stata presentata ieri al pari centro dall'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini si tratta di un presidio di carattere legale tutti coloro che hanno bisogno di un consiglio di un aiuto perché si trovano in una situazione di difficoltà possono fare riferimento ad un gruppo di avvocate sono nove avvocate che si mettono a disposizione per dare consigli e per promuovere la loro attività è stata presentata una serie di incontri uno per ogni lunedì, uno per un lunedì al mese diciamo meglio che tratta diversi argomenti e saranno a disposizione dei magistrati, dei giudici ad affrontare quello che preme appunto di più in questo periodo e quali sono gli argomenti che verranno affrontati? Ebbene lunedì prossimo alle ore 18 si parlerà di relazioni disfunzionali con le avvocatesse Katia Letizzi e Riccarda Grandoni e il magistrato Giacomo Gasparini giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Pesaro e poi il prossimo incontro 19 giugno si parlerà dell'amministratore di sostegno con le principesse del foro, così vengono definite, Brigitta Fabbrocile, Pamela Salucci e Katia Letizzi Sarà presente anche il giudice onorario del Tribunale di Urbino, l'avvocato Anna Mercuri L'ultimo appuntamento, il 24 luglio, è con diritti e doveri nelle coppie di fatto con le avvocate Silvia Baldoni, Arianna Simoncini, Katia Letizzi e il magistrato Gianmarco Catalini, giudice del Tribunale di Urbino quindi veramente una opportunità importante per chi ha bisogno di un consiglio legale Invece si sono proprio rivolti ad un legale, i genitori del Padalino che fanno parte di quel comitato che contesta la decisione della scuola di istituire la settimana corta una settimana che aggraverà l'impegno scolastico dei loro figli così la considerano questa scelta i genitori ma non solo, ma che influirà in modo importante su tutta la vita della famiglia e soprattutto costringerà i bambini ad uno stress veramente lungo quattro giorni alla settimana sei ore di lezione un giorno otto ore di lezione quindi arriveranno a casa veramente a metà pomeriggio mangeranno un panino a scuola insomma veramente una cosa molto molto precaria secondo questi genitori e per far valere le loro ragioni visto che hanno così individuato alcune irregolarità nel modo procedurale in cui è stata assunta questa decisione per far valere le loro regioni hanno presentato un ricorso al Presidente del Repubblica quindi un ricorso di carattere legale hanno fatto riferimento all'Avvocato Daniele Dossi del Foro di Pesaro il quale appunto ha imbastito il ricorso e ora si aspetta il risponso comunque sono veramente aggueriti questi genitori i rappresentanti di cento di coloro che hanno avuto così la sensibilità di aderire a questo movimento per cercare di tutelare soprattutto i loro bambini l'Istituto ha adottato una procedura del tutto privo di trasparenza così hanno evidenziato gli stessi e poi si parla dei danni subiti anche da Fano dall'alluvione l'amministrazione comunale ha fatto i conti e ha quantificato in un milione e mezzo quanto patito per quanto riguarda i danni causati dalla esondazione in modo particolare dei fossi e dalle frane che si sono verificate nel territorio un milione e mezzo i danni causati dall'emergenza maltempo del 16 e 17 maggio scorso e la somma quantificata dall'amministrazione comunale una volta superata l'emergenza dei primi giorni ed ora si fanno i conti e si invitano anche i privati a fare le loro domande per ricevere i rimborsi che loro spettano Fano è stata inclusa in quei sette comuni a cui è stata riconosciuta l'emergenza per quanto riguarda il maltempo dei giorni scorsi e poi vediamo il risultato della prima manifestazione che è stata fatta per lanciare la mobilità giovane la mobilità dolce diciamo così anche se è giovane la maggior parte nella città di Fano la carica dei 101 e-bike e 200 monopattini in più 200 monopattini a disposizione della cittadinanza oltre 100 biciclette elettriche è stata presentata sulla cavea di lungomare Simonetti a Lido ieri la nuova flotta di mezzi elettrici della BERT Brunori, l'assessore Brunori chiesto di limitare la velocità e impedire il parcheggio selvaggio che sono poi due aspetti un po' critici della mobilità dolce vanno un pochino forte e poi parcheggiano in ogni dove invece qui c'è un po' un monito mettiamo a disposizione questi mezzi bisogna fare un abbonamento poi anche un abbonamento scontato soprattutto per i giovani abbiamo poi una combinazione tra monopattini, biciclette e trasporto pubblico insomma ci sono molte facilitazioni ma occorre come sempre prudenza e buon gusto quindi una bella iniziativa a favore sia dei fanesi che dei turisti e veniamo alla cronaca Bombola esplode in una azienda a terre roveresche la zona, soprattutto nella zona industriale di Orciano un 22enne trasportato in eleambulanza ad Ancona dalle notizie sommarie che sono trapelate nei primi momenti sembra che durante la lavorazione di un taglio per lo successivo smaltimento delle bombole GPL di ossigeno e di estintori ebbene una di queste bombole sarebbe esplosa coinvolgendo un giovane dipendente il quale ha riportato danni agli atti inferiori e ha riportato insomma dei problemi tanto che gli operatori hanno considerato lo stesso un codice rosso e quindi l'hanno trasportato di urgenza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona per quanto riguarda le sue condizioni nella serata sembra che i medici si siano pronunciati in modo ottimista escludendo gravi conseguenze ai danni del giovane quindi bene o male sembra che se l'abbia cavata Amarotta Amarotta lungomare più blu dal 15 giugno si paga si paga dal 15 giugno al 15 settembre entrano in vigore i parcheggi a pagamento sul lungomare e sono iniziati a tracciare le linee blu poi seguirà l'istituzione di 22 parcometri in modo che la mobilità sia più avvicendevole questo volevo dire sia più avvicendevole insomma che ci sia posto un po' per tutti e chi arriva in quel punto possa trovare un parcheggio perché altrimenti deve fare chilometri prima di trovare un stallo libero veniamo ad Urbino nei collegi sono a rischio 600 posti letto per gli universitari allarme del presidente del consiglio degli istituti Giovanni Alvares l'Ateneo è in ritardo nell'adeguamento dell'impianto antincendio 600 studenti potrebbero veramente rimanere senza alloggio nei collegi universitari questo perché l'università di Urbino deve provvedere all'adeguamento degli impianti antincendio sulla proroga bisogna fare un po' di chiarezza in molti dicono che è del 2024 questa proloca ma c'è una scia firmata dalla prefettura in cui si definisce che la scadenza è al 31 dicembre 2023 bisogna essere onesti a questo proposito rassicurando tutta la popolazione studentesca che la proroga è ancora attiva sono state comunque attuate tutte le misure compensative e non ci sarebbe pericolo per nessuno questo per quanto riguarda le assicurazioni però la cosa è ancora più complicata altri problemi ce ne sono il problema vero sarà il disservizio generato dal continuo rimando dell'Ateneo e per spiegare veramente quello che sta accadendo vi invito a leggere l'articolo perché altrimenti andrebbe via quasi tutta la rassegna stampa per illustrare il motivo che viene evidenziato dal giornale e qua invece parliamo di archeologia scoperta una via di comunicazione che veniva usata nell'età del bronzo straordinaria ricerca della Università di Urbino che da decenni studia le rocce laviche i professori Santi e Renzulli hanno individuato un collegamento che univa Arcevia con radicofani nel Senese pensate hanno scoperto delle rocce laviche rocce laviche che nelle Marche originariamente non ci sono qualcuno deve averle trasportate hanno fatto le analisi di queste rocce e hanno individuato che ci sono dei punti di contatto con le uniche rocce presenti a radicofani nel Senese quindi prima che si facesse la via Flaminia che si facesse appunto questa comunicazione diretta dell'epoca romana tra l'Umbria e le Marche ebbè i nostri uomini dell'età della pietra avevano già individuato un passaggio per trasportare queste rocce laviche con le quali poi si devono fare le macine perché le rocce laviche hanno una forte resistenza per appunto realizzare questi macigni giriamo ancora la pagina passiamo a Fossombrone ci sono dei rimproveri da parte del Comitato di Fossombrone nei confronti del Sindaco perché non avrebbe difeso in modo determinato l'ospedale di Fossombrone nell'incontro con l'assessore regionale Saltamartini caso ospedale Fossombrone perché il Sindaco ancora tace il Comitato se la prende con il primo cittadino per l'esito dell'incontro con l'assessore Saltamartini il nosocomio doveva avere il primo punto di intervento ma al momento nulla è accaduto ed ora diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro dove ovviamente si parla dei danni che il territorio ha subito dalla alluvione la protesta dei comuni esclusi solo sette i comuni che riceveranno i finanziamenti statali ma ovviamente i danni hanno interessato anche altri territori la protesta degli esclusi sindaci il grido d'aiuto mura crollate strade rotte non lasciateci di nuovo soli hanno detto i primi cittadini da Ferminiano a Mercatino Conca l'elenco delle opere che senza i fondi di Roma sarà difficile a realizzare del tutto insoddisfatto dell'atteggiamento del governo è il presidente della provincia Giuseppe Paolini i danni si sono registrati per gran parte dell'entroterra ha detto abbiamo 76 strade provinciali franate e servono 25 milioni questa è la stima trasmessa alla protezione civile e poi abbiamo ancora altre pagine dedicate a questo argomento dalla Camera di Commercio giungono 600 mila euro per la prevenzione e poi la delusione del sindaco Ucchielli sindaco di Vallefoglia dispiace questa discriminazione per l'esclusione di alcuni comuni Pergola e Fraterosa non possiamo lasciare le case abbandonate piste ciclabili cantieri aperti altri 8 km in bicicletta linea diretta con la periferia ebbene Pesaro rafforza i collegamenti tra centro storico e periferia per questa bicipolitana che un paio abbraccia ormai tutta la città l'assessore Belloni a giorni partono i lavori per il sottopasso di via Liri a Santa Colomba in questo modo si potrà andare in bicicletta da Vismara fino al centro seguendo il fiume è anche un bel itinerario di carattere ambientale il Biolab si sposta da Torraccia si sposta ad Urbino decisiva la piena del foglia che ha convinto gli organizzatori di questo laboratorio che dovrebbe interessarsi degli animali per individuare alcune malattie per studiare alcune malattie si sposta invece ad Urbino rendendo contenti un po' tutti i protestatori che sono animati che hanno fatto anche una manifestazione con apporti che vengono da altre regioni per evitare questo insediamento giriamo ancora la pagina sul resto del carlino e vediamo un episodio di cronaca il patrigno ci tocca poi le gemelline ritrattano e azzerano le accuse un uomo un 44enne era finito sotto inchiesta avendo ovviamente la vita distrutta ma ieri c'è stato un colpo di scena abbiamo mentito perché non volevamo stesse con la mamma hanno detto le gemelline le due ragazze al tempo sedicenni sono diventate maggiorenni si teme che però possono essere state plagiate e quindi c'è insomma un dubbio un punto interrogativo che ancora incombe su questa vicenda rapina con violenza condannato a due anni un ventunenne ha aggredito un commerciante di Gabice è un suo amico con una catena mentre è entrato in un negozio voleva voleva avere 200 euro in contanti dal fondo cassa e voleva due birre ovviamente senza pagarle perché voleva lui i soldi ebbene è stato condannato a due anni dopo essere arrestato dai carabinieri ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico l'apertura del giornale lo vediamo qua è dedicata per quanto riguarda Fano ad una denuncia fatta dal Presidente della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio di Fenile Gianfranco Mazzanti in merito alla responsabilità delle esondazioni che si sono verificate nei giorni scorsi a causa del mattempo esondazioni dei fossi ebbene l'acqua è fuoriuscita dai fossi che delimitano un po' l'autostrada l'A14 ma anche altri fossi che si collegano a quest'ultimo hanno debordato hanno esondato e hanno invaso tutta la proprietà della Fondazione causando grandi allagamenti allagati i campi dal Cante colpa del fosso dell'A14 dice Mazzanti ma la società autostrade ribadisce la nostra proprietà è lontana bisogna fare un sopraluogo lo faremo i tecnici dell'autostrada l'hanno già fatto però sono disposti a farne un altro insieme ai responsabili della Fondazione Agraria per verificare sul territorio le relative responsabilità a parte di chi appartengono questi fossi i fossi vanno puliti perché altrimenti succede quello che è accaduto nei giorni scorsi fossi privati fossi di carattere pubblico vanno ugualmente ben mantenuti altrimenti l'acqua li riempie esonda e procura dei danni ebbene i fossi che sono all'interno della Fondazione Agraria Canti di Montevecchio hanno tenuto perché sono ben curati da lì l'acqua non è mai fuori uscita ecco perché Mazzanti al di là delle responsabilità attribuite a questo o a quello ha ragione nel dire ebbene io faccio il mio dovere fate che anche gli altri facciano altrettanto vediamo ora invece un articolo di carattere politico e amministrativo in vista della prossima riunione del Consiglio Comunale di martedì prossimo a Fano dove ci sono argomenti importanti all'ordine del giorno nell'ambito di una variazione al bilancio preventivo relativo all'anno in corso si parlerà della variante di Centinarola si parlerà anche del finanziamento della variante di Gimarra ovvero dell'ultimazione dell'Interquartieri e si parlerà del finanziamento dell'ala aggiuntiva della biblioteca federiciana ebbene su questo problema ci sono diverse prese di posizione non decide il sindaco dice tra virgolette il partito democratico variante duro attacco della Lega reazioni alle rivelazioni del costruttore del costruttore che aveva detto che il Consiglio Comunale deve decidere ma deve decidere dal punto di vista della legittimità non dal punto di vista politico perché questo passo è stato superato e poi abbiamo una petizione dei residenti di Centinarola per avere la scuola soprattutto a loro interessa la scuola l'ampliamento della scuola perché in questo momento molti bambini devono andare a scuola al poderino invece di restare nel loro quartiere e poi c'è stato anche un colpo di scena ieri sera in Commissione Bilancio dove si doveva discutere appunto di questi argomenti è venuto a mancare il numero legale perché il Sindaco non c'era non c'era nemmeno il Vice Sindaco e allora due componenti dell'opposizione hanno abbandonato la sala a questo punto erano presenti soltanto due del PD e quindi la Commissione non è stata possibile a prolungarsi e quindi è saltata anche la riunione di maggioranza che doveva tenersi in serata il Sindaco è ancora trattenuto a Belgrado per quanto riguarda problemi di carattere aereo e quindi insomma senza il Sindaco questa riunione avrebbe avuto poco senso probabilmente si farà non so oggi o domani comunque il Consiglio Comunale è martedì quindi rimane poco tempo vediamo anche che il Corriere Adriatico si occupa del ricorso dei genitori della Padalino al Presidente al Capo dello Stato a Mattarella i genitori contrari promuovono il ricorso al Capo dello Stato ebbene qua invece ce ne abbiamo una notizia procedono allacremente i lavori per la Contessa questa strada chiusa che impedisce i collegamenti più diretti con la Val Tiberina con l'Umbria con Roma con Perugia eccetera Contessa i lavori avanzano la conclusione viene assicurata verrà fatta entro Natale e poi invece su questa pagina sulla pagina della Val Cesano l'apertura è dedicata all'incidente che si è verificato nella ditta Solari Metalli di Schieppe dove è scoppiata una bombola il 22enne di Sant'Ippolito soccorso dall'eliambulanza un boato esplode la bombola di GPL giovane operaio ferito alle gambe e poi vediamo una pagina di Senigallia anche se non abbiamo oggi sul Corriere edizione di Pesaro l'apertura su Senigallia ma vediamo la notizia di due lutti si tratta di Sabina Bucci e Norina Modesti morte in poche ore erano vicine distanza all'ospedale Simona Sabina Bucci 60 anni titolare con il marito della pescheria Moreno mentre Norina Modesti a 81enne ha gestito la pensione Mara erano personaggi molto noti ai senigallesi vediamo anche qualche notizia di Pesaro vediamo l'apertura che riguarda un problema ormai annoso è quello dei parcheggi sottomonte sotto il Monte Ardizio al mare a sottomonte con sosta nell'Adriatica ma con limite dei 30 quindi concessi anche quest'anno questi parcheggi importanti per fruire di tutte le spiagge che uniscono appunto Pesaro con Fano ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 grazie per l'ascolto vi auguro un buon weekend a risentirci